Seconda tappa del corso internazionale, migliorare le performance della pubblica amministrazione, riscrivere l'abuso d'ufficio. La seconda giornata si è svolta presso l'Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia di Salerno ed è cominciata con i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Americo Montera. È stato un convegno ed è un convegno di assoluto livello scientifico, alto livello scientifico, valore alto, che ieri all'Università, con l'intervento anche del Presidente De Luca, ed oggi qui in Tribunale, continua nella Aula Parrilli, per la disamina di un aspetto fondamentale dell'amministrare, per quanto riguarda l'amministrazione della legge Severino, nelle sue letture, come dire, pedisse, che corre il rischio di bloccare tutto. Allora, fermo restando che il controllo di legalità è un atto importantissimo, inerudibile e necessario. Bisogna fare in modo che si perseguano le condotte, come dire, criminali, laddove vengono riscontrate, altrimenti si passa a un pan-legalismo, un pan-penalismo, che mette in difficoltà il pubblico amministratore e anche le tecnostrutture municipali nell'operare. Allora, da questo punto di vista, c'è bisogno di un affinamento, di una riflessione sulla legge Severino che mi pare oggetto di questo convegno. Innanzitutto la mia gratitudine al professore Castaldo che ha organizzato questo ennesimo convegno pieno di culture, soprattutto per temi abbastanza contemporanei che ci interessano da vicino. È ottimo il tema scelto. Io che sono un modesto civilista ho potuto apprezzare la riscrizione del reato di abuso di ufficio e credo che proprio l'abuso di ufficio crei un corto circuito, perché il pubblico amministratore per paura di incorrere nell'abuso di ufficio non pone in essere talune attività. E talune attività non vengono poste in essere per tema e per paura dell'abuso di ufficio. Quindi c'è un vero e proprio corto circuito che si crea. Speriamo che da questo convegno, sicuramente, uscirà fuori qualcosa di nuovo, di innovativo, da sottoporre ai nostri legislatori. Il focus di questo secondo giorno è stato incentrato sul progetto di riforma dell'abuso di ufficio che coinvolge le pubbliche amministrazioni e la loro capacità di assicurare servizi ai cittadini. Ai nostri microfoni i protagonisti del dibattito. Sì, si tratta ovviamente di una questione estremamente opportuna perché coinvolge le amministrazioni pubbliche e soprattutto la loro capacità di assicurare funzionando servizi ai cittadini. L'orientamento emerso comunque non ha escluso che l'attuale testo sia un testo tipicizzato, sia pure con problemi nati in sede applicativa, soprattutto quanto alla inclusione del vizio, dell'eccesso o sviamento di potere all'interno del concetto di violazione di legge ai fini della contestazione dell'articolo 323 del codice penale. Ora, sul punto degli aggiustamenti sono stati proposti. È chiaro che la dottrina fa bene e direi che questo è un compito non sempre assolto ad elaborare, a suggerire, a proporre al legislatore questioni che possono arricchire diciamo l'archivio delle cose eventualmente da realizzare perché l'attività propositiva della dottrina ne sottolinea la capacità di svolgere un ruolo politico, politico ovviamente tra molte virgolette, nel senso propositivo, nel senso dell'elaborazione dei problemi, delle loro eventuali soluzioni e soprattutto della sottoposizione alla politica di questioni che la politica deve valutare. Poi è chiaro che la politica è sempre libera di decidere cosa fare, ci mancherebbe altro, però si decide opportunamente se le questioni sono segnalate e soprattutto se la segnalazione non è generica ma si accompagna anche alla indicazione di come eventualmente risolvere i problemi che prima ancora vanno evidenziati quindi non diciamo questioni astratte, questioni teoriche, questo è un merito di Andrea Castaldo gli va riconosciuto al contesto della Università Salernitana certamente pure di segnalare questioni alla politica che la politica poi a quel punto potrà valutare in maniera già corredata da indicazioni, suggerimenti e soluzioni. Il progetto è un progetto che nasce dall'esigenza di circoscrivere sia l'uso di fatto molto ampio della fattispecie e i costi che questo comporta perché produce effettivamente pochissime condanne finali diciamo mentre molte di più sono gli esercizi di un'azione che poi si perde e si chiude senza un giudizio di responsabilità. Questo è quindi il tema riforma. Gli spunti emersi quest'oggi da sottolineare e da mettere in mostra? Beh da un lato diciamo c'è l'idea di quella del progetto di delimitare già formalmente maggiormente le condotte rilevanti anche attraverso meccanismi interessanti di utilizzo di pareri conferiti da un'autorità regionale alla pubblica amministrazione prima di procedere all'esercizio diciamo di atti magari problematici discrezionali e quindi preventivi che possano in qualche modo tranquillizzare in ordine alla legittimità del proprio operato. Poi però c'è anche naturalmente il problema più complessivo dell'esistenza di tante evidentemente denunce anche a volte strumentali che mettono in moto meccanismi di esercizio ed inizio di una iscrizione di una notizia di reato, esercizio di un'azione penale che sono più difficilmente controllabili anche attraverso una maggiore formalizzazione della fattispecie. Questo però è un problema di costume più generale che non riguarda solo gli abusi amministrativi ma anche l'uso giudiziale delle fattispecie.